Buonasera signore e signori a Mission Impossible Caravalle Centrale voi tutti mi state chiedendo Antonio, ma dov'era l'assistente? Ebbene si, la mia assistente sta arrivando proprio adesso ma in esclusiva solo per voi ragazzi, signore e signori che ci seguite da casa in esclusiva dico davvero nessuno mai visto inedito vedrete io e la mia assistente Letizia che balleremo la canzone di Mr. Saxo Beat vedrete io grazie a tutti ah regia finisce così la canzone di Mr. Saxo Beat vieni Letizia vi salutiamo con coloroso affetto da Mission Impossible a Caravalle io Antonio Tino e la mia assistente Letizia Carroccia grazie a tutti grazie a tutti